Eccoci qua, FIERONE BLU, ORAGON contro ETERNALS, entrambe a quota 1. Se segna, tenete e si fermo. Anche chi ingasce, parte Vasco. Oddio, non era male. Attenzione, la conclusione! Poi LOPES! GOOOOOL! GOOOOOL! Eeeeeeeel Dolo! Ancora lui, il numero 10 degli Orange. Carta! Gli ORAGON decidono di giocare la carta bomber, gli è capitata solo questa. Ah beh, giusto, giusto! Sul loro 10. No, scherzando. Averiamo LOPES, LOPES, dentro l'ORAGON! E' Dolo! CHE VALE DOPPIO! GABRIEL LOPEZ! Solo lui e Moscardelli l'hanno fatto in questo torneo, sui giocatori assoluti! Vediamo. Gli è finita lì la parte. Entra di prepotenza, non c'è possibilità di intervento per Christian Colnaghi. Aspettate, ragazzi, allora, c'è una carta giocata dal mister, boh, degli ETERNALS. Rigore presidenziale. Con un grande conduzione di palla, la conclusione! ZNV! ZNV Jensen! Il presidente torna in campo dopo l'infortunio e segna immediatamente. No! Quasi contro quattro! Fende non gioca. Solo quando si attacca. Il toro samba LOPES! Jay Pata! Jay Pata! Mamma mia! Dai, ragazzi, dai, ragazzi! Sgrilletta l'aria e chiede a Coppola di venire vicino. Ma che intervento di Marekko! È solo Panzeri. Davanti a sé c'è Christian Bonolo, in mezzo c'è Jay Pata e LOPES! GABRIEL LOPEZ! Dai, ragazzi! Dai, ragazzi! Pocca! Fermatelo, fermatelo, ragazzi! Cazzo di crosserà! Fantastico! E poi, e poi lì... Pata! Bruttissimo gesto di Pata! Pata, Pata, Pata! E ha buttato fuori il fratello di ZKV Jackson! Vediamo il pallone che passa... KUNTER! Marekko! Cazzo! Palla Pata, occhio a Pata! Pata, Pata, Pata! Però c'è di sinistra! Pensa con il mancino di concludere! Va bene! Forse sarebbe stato meglio di... Un secondo, abbiamo pensato... Mamma mia, Brivio! Attenzione! Mamma mia, ma che ha fatto Brivio! Mamma mia! Ma che assist ha fatto, Brivio, ragazzi! Un gol con un assist, ragazzi! Andiamo a rivedere! GUNTER e poi Brivio! Mamma mia! Che fai! Vabbè, ma Fata era fermo! E poi... Bello il pass cambio! Papparini! Poi LOPES! Bravo, bravo! Papparini! 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 E TORO LOPEZ! Ma che passaggio gli ha dato LOPES! Sono cinque per lui, quest'occhi! Ma che cazzo di passaggio! È stato infortunato che si è fatto male alla terza partita! Attenzione! Grande banda di Papparini e Max Douglas! C'è un'inquadratura, ragazzi! C'è un'inquadratura! Ma si sa farà! Per tutti possiamo taroccarla! Shootout! Shootout! Contro Marenko! Non possono fare... Se Marenko la para, hanno vinto! Parte Pasariello! PALLO! Sì! E gli ORAGON! Tranquilli raga! Vincono questa partita! Sì! 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 Sì!